Benvenuti in Sardegna dove dopo quasi 50 anni dal lancio della prima generazione scopriamo la quarta generazione di Jimny o come tanti lo chiamano il suzucchino. Era il 1970 quando Suzuki partì con un concetto, quello di sviluppare un fuoristrada compatto e ancora oggi è quella l'idea che è stata dietro la progettazione di Jimny. Un fuoristrada compatto, un fuoristrada sotto i 4 metri, l'unico che possiamo trovare oggi sul mercato. La filosofia di costruzione non è cambiata, il target principale di clienti per cui è stato pensato e progettato il Jimny sono gli utilizzatori professionali, quindi persone che hanno bisogno di un fuoristrada per andare nei posti più inaccessibili e su questo si basano alcune delle strutture meccaniche e idee di realizzazione di progetto, quale il telaio a traliccio che ora è stato rinforzato rispetto al precedente Jimny, la terza versione che fu lanciata nel 1998, 20 anni fa. Viene mantenuta la struttura delle sospensioni ad assale rigido, il posizionamento del motore longitudinale, questo permette di avere con i 21 centimetri di altezza da terra degli angoli caratteristici che sono estremamente competitivi ed estremamente importanti per la guida in fuoristrada. Non poteva mancare tanta attenzione anche per la sicurezza, soprattutto per la sicurezza attiva e su Jimny di serie sono installati dei sistemi di sicurezza attiva, gli ADAS così nominati, grazie all'adozione di un sistema di telecamera e di un laser che lavorano in abbinata. Cinque sono le funzionalità offerte da noi chiamate con nomi un po' dell'utilizzo di tutti i giorni, quindi c'è l'attento frena, il guida dritto e il resta sveglio e poi ci sono il non ti abbaglio e occhio al limite. Occhio al limite è l'ultimo introdotto per la prima volta sulla gamma Suzuki e si tratta di riconoscimento dei segnali stradali, riconoscimento dei limiti, quindi non solo attenzione alla sicurezza attiva in fuoristrada ma anche per la sicurezza attiva nella guida di tutti i giorni, così come per la vita di tutti i giorni anche il comfort, quindi climatizzatore automatico di serie, così come il navigatore satellitare abbinato a uno schermo touchscreen da 7 pollici che offre anche la possibilità di connettere tutti gli smartphone. Tutto questo non poteva mancare la trazione integrale, o il grip pro, quindi la possibilità di avere le marce ridotte per avere una mobilità assoluta in tutte le condizioni. Un unico allestimento Jimny top, il prezzo di listino sarà ed è di 22.500 euro, il prezzo è chiave in mano compreso anche della vernice. Gli unici optional sono due, la vernice bicolore quindi sono 400 euro in più e il cambio automatico che sarà a disposizione da gennaio, 1.500 euro in più. La presentazione della vettura già da oggi disponibile presso le nostre concessionarie, la porta aperta ufficiale sarà il 29 e il 30 di settembre, quindi vi aspettiamo numerosi per conoscere il nuovo Jimny.